Era il 13 febbraio di quest'anno quando alle mie spalle al cantiere del blocco B dell'ospedale di Fiorenzuola veniva posata la prima pietra di quella che dovrebbe essere una costruzione attesa e necessaria per completare il presidio ospedaliero di Fiorenzuola. Purtroppo è stato trovato terreno contaminato da idrocarburi e sarà necessaria una bonifica. Il ritrovamento di tracce di idrocarburi risale ad aprile ed era in quantità superiore a quella consentita, ovvero 50 microgrammi per chilo. Spetta al proprietario dell'area che è la USL procederà alla bonifica prima di costruire sopra il terreno diciamo contaminato che è di 150 metri quadrati cioè un decimo dell'area complessiva su cui sorgerà o dovrebbe sorgere il nuovo edificio ospedaliero. Le prime avvisaglie della presenza di idrocarburi furono in realtà a febbraio quando Ausland fece comunicazione all'ARPA. Qualche mese dopo, ad aprile, erano state fatte indagini su tutta l'area svuotata prima dell'acqua che si era accumulata durante l'inverno. Nella porzione con maggior presenza si fece uno scavo ulteriore di un metro e mezzo per rimuovere la terra ma gli idrocarburi sono penetrati ancora più in profondità. Sono stati effettuati carotaggi spingendosi fino a 15 metri di profondità. Ora bisogna programmare le strategie di intervento. Si sono spesi per ora 50.000 euro e se ne potrebbero spendere altrettanti e oltre. L'USL ad agosto aveva parlato della conclusione della bonifica a settembre ma tuttora è da decidere.